Vaccinatevi, io avrei voluto, ma il virus è stato più veloce. A parlare dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie è Erika, nome di fantasia, una 25enne che ha contratto il Covid ed è stata salvata grazie agli anticorpi monoclonali. La giovane avrebbe dovuto vaccinarsi il 3 settembre, ma l'anamnesi del medico ha scoperto episodi di shock anafilattico e così le è stato consigliato di fare il vaccino in ambiente protetto. Al secondo appuntamento, il 15 settembre, in ospedale, Erika non è mai arrivata, ha contratto il Covid in un ambiente di lavoro in una forma piuttosto seria e solo dopo la terapia monoclonale a cui è stata sottoposta, all'ospedale San Donato ha evitato il peggio. Oggi Erika è tornata a casa, al momento attende il tampone di controllo per essere dichiarata guarita. Non vedo l'ora, dice, in questi giorni il mio pensiero è stato soprattutto per i miei familiari. Alla luce di tutta questa vicenda vorrei dire a tutti di vaccinarsi, perché se la scienza ci dà questa opportunità, noi dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo crederci perché davvero non è uno scherzo, io il vaccino lo avrei voluto fare, ma il virus è stato più veloce.